Con un voto all'unanimità, Giorgio Ferrara è il nuovo direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto. Il suo mandato comincerà dal prossimo aprile. Il 31 marzo, dopo sette anni di direzione, scadrà l'incarico a Massimo Ongaro, con Ferrara che rimarrà in carica per i prossimi tre anni. Ci saranno anche Irina Bruc come regista residente, al momento impegnata per le prove di due progetti alla Scala di Milano. La Bruc esporterà in particolare il suo progetto itinerante House of Us, Venezia, città capofile di questo laboratorio. E poi c'è anche Beppi Morassi alla produzione. Nel discorso di insediamento del neodirettore, l'importanza del nostro teatro e delle sue caratteristiche certamente da esaltare. Il Teatro Stabile Veneto del prossimo triennio non sarà un'occasione celebrativa del già visto, ma una grande rassegna di arte e cultura ricca di nuove idee, anche eccentriche. Il Glamour sarà tutto nella scelta di understatement e di rigore. Diverse politiche e strategie dovranno essere messe in atto per andare in conto ai tempi, ai pubblici, alle richieste che vengono dal territorio. Il Teatro Stabile Veneto deve affermarsi come evento di punta del panorama culturale internazionale.